Siamo qua in piazza oggi come FIOM insieme a tutti gli altri soggetti con cui abbiamo costituito questo nuovo movimento qui nelle Marche, questa assemblea permanente dei movimenti delle Marche. Perché per noi della FIOM questa è una continuità, è un percorso che è iniziato già di iniziativa, di collaborazione, di lotta insieme dal 16 ottobre del 2010 quando la FIOM organizzò quella grande manifestazione a Roma. Abbiamo continuato ad agire sui nostri territori insieme ai studenti, ai centri sociali, ai comitati, associazioni, movimenti in un'idea di lotta, di battaglia e di resistenza che per noi non può rimanere soltanto circoscritta pur importante finché a ieri la FIAT dentro i posti di lavoro per difendere i diritti, la democrazia, i posti di lavoro. Ma deve per forza di cose allargarsi e abbracciare un'idea di battaglia, di resistenza per il cambiamento e la trasformazione sociale che deve vedere dentro anche tutte le altre forze, vive la parte migliore di un paese che non si vuole rassegnare a un'idea di morire così con Berlusconi prima e con i professori della Bocconi oggi. Quindi siamo in piazza per dire no a questo massacro sociale che viene portato avanti e che da dentro i posti di lavoro, da dentro la società ha bisogno di una capacità di resistenza e di creazione di un futuro diverso da parte di tutti quanti. Siamo qui per questo e lo facciamo insieme a tanti giovani, studenti, lavoratori che vogliono lottare insieme a noi.